Ciao ragazzi, qui vi parla Golgen, come state? Benvenuti in questo nuovo video nel quale parleremo del capitolo 1025 di One Piece. Prima di cominciare ti chiedo di mettere mi piace al video, di iscriverti al canale per supportarmi. Detto ciò, iniziamo! Il capitolo comincia col farci vedere Monosuke in forma drago e Ruffi, che litigano perché nonostante Monosuke si è cresciuto, Ehi non riesce a volare perché ha le vertigini. Tutto ciò sotto gli occhi di Shinobu ed alcuni membri della sciurma di Lou. Dopo ritorniamo sul tetto di Onigashima, dove abbiamo il seguito dello scontro dei due Raimei Hake. Vediamo che Yamato è riuscita a crearsi uno scudo di ghiaccio che la ricopriva prima dell'attacco e che ha subito i danni frantomandosi. Dopodiché riparte in carica. Nel mentre Yamato e Kaido continuano a scambiarsi colpi, Kaido cerca di farle capire che non può avere amici e difatti tutti quelli che l'hanno aiutata sono morti, compreso Ace. Poiché lei deve dominare gli altri tramite la sua forza e che lei è figlia di un demone e del suo destino. Qui possiamo analizzare una cosa. Demone in giapponese si dice Oni e nel folklore giapponese ne esistono i tre colori, rosso, blu e verde. Egli sono caratterizzati per avere delle corna, una mazza chiodata e capelli lunghi. Una descrizione perfetta per Kaido. Dalle parole di Kaido possiamo presumere che la razza dei demoni, come quella dei Lunariani o dei Umi di Pesce, esistono e sono anche esistiti, poiché è quel sangue che c'è nelle sue vene e della sua figlia. Dopo quest'analisi ritorniamo al capitolo, dove ritroviamo Rufi e Monosuke, che finalmente riesce a volare nonostante abbia gli occhi chiusi. E ciò comporta diversi problemi, poiché invece di andare sul tetto, entra dentro Onigashima, entrando nella sala del concerto e progredendo per il secondo piano. Con questa sua entrata, vedendo un drago, molti pensarono che fosse Kaido, però poi cambiarono idea per via del suo colore. Dopo vediamo dal tetto, dietro Yamato, uscire un drago, sul quale troviamo Rufi, Gear 4 Snake Man, pronto ad afferrare il suo Jet Calverine. Insieme a Yamato, che con il suo attacco colpiscono Kaido con il rivestimento dei lacchi del re, e subito dopo Rufi ritorna in forma normale, e Kaido in forma drago, di fronte a Monosuke, in forma drago, sul quale si trova Rufi, che afferma che non morirà, poiché diventerà il re dei pirati. E Kaido, vedendo Monosuke, afferma che questo mondo non ha bisogno di due draghi. Da queste azioni possiamo notare un uso diverso ai Gear 4 da parte di Rufi, e anche in avvicinamento l'ultimo round tra Rufi e Kaido. Vediamo intanto che Rufi sia riuscito ad attivare la sua forma Gear 4 in pochissimi secondi. Inoltre lo ha usato in una maniera differente rispetto alle altre volte. Mi spiego. Ogni volta che usava questa forma, la usava fino alla fine, cioè quando si stancava, mentre oggi lo ha usato una sola volta, e poi disattivandola prima di stancarsi. Dunque adesso, penso che ci stiamo dirigendo verso un uso più intelligente e dunque più controllata del Gear 4, poiché potrebbe usarli più volte nei suoi combattimenti quando necessita di boostare qualche sua capacità. Ad esempio, usare lo Snake Man quando ha bisogno di essere più veloce in un momento preciso, o il Bound Man quando vuole aumentare la sua potenza di colpo, e subito dopo l'utilizzo disattivarla prima di stancarsi. Ecco a voi l'analisi del capitolo 1025 di One Piece. Ti ricordo di iscriverti, mettere mi piace e commentare il video per supportarmi. Detto ciò, ci vediamo alla prossima per un nuovo video. Nel frattempo statemi bene. Hasta la vista!